Poi pover Ranger Aspetta fammelo vedere bene Solo che in questo filmato si vedrà un pochettino rosso Non si vede che è blu Aspetta vi faccio una sommata Ma quello è un gelato siamo sicuri Guarda quante gelatissima c'è un pochettino C'è un po' lungo questo gelato però Io non ne avevo bisogno Ma gli altri li hai aperti già? Quello dei robetti è un po' lato Si però non l'ho uscito dall'acqua Vabbè ma spostiamo gli altri per fare fuori regale Non è carino Ti li hai aperti Allora non è stato carino verso di noi Esatto Sei cattivo basta Vabbè scusera non poi ragazzi non stavamo facendo niente Non stavamo cocinando No ma lei è tipo la stessa anche per Natale Una volta l'ho chiamata all'emissione Ti dobbiamo fare le inquadratura mentre sono così Ma per Natale ancora E vabbè mai tanto dobbiamo aspettare le Natale Per le nostre sono Giù è possibile non fare le inquadratura Per il piccolo Non si vede nulla Tanto poi lo tagliamo Lo tagliamo Ok questo è quello di Roberta Invece Che mi ha chiamato e non ha fatto compagni E che i colori non si vederanno bene Eh per via della luce Non si vedono Infatti le immagini si vedevano sicure E poi e poi E poi il tuo Vuoi aspettare ad aprirlo Aspettiamo gli altri Vabbè ma... Vabbè ma... Vabbè ma... Tirali un po' Se dobbiamo prendere la torta Però dobbiamo richiamare gli altri Vabbè il tempo della porta Vediamo il tempo della sigaretta Perché altrimenti la fotocamera che ti stanno No no... Tanto piacevole Vabbè dici c'ho pure le fotografie Comunque divertitevi Ma poi c'è l'S4 Che fa le foto HD